Ci pensa il capitano Antonio Croce al decimo della ripresa a regalare tre punti importanti alla Gelbison che valgono il terzo posto in classifica. In coabitazione con il Nardò la squadra di Monticciolo batte di misura il Bitonto e mette insieme il terzo risultato utile di fila. Il primo tempo stenta a decollare e bisogna attendere il 36esimo per il colpo di testa di Croce. Tuttavia impreciso risponde il Bitonto un minuto dopo con Tedesco che salta il portiere e poi col mancino sfiora il palo. Ancora Tedesco a trovare spazio ma la sua conclusione del limite è da rivedere. Primo tempo che termina a reti inviolate. Inizia una ripresa ben più emozionante. Partono meglio. I neroverdi tangorre di testa svetta ma non riesce a inquadrare la porta. Poco dopo Figliolia viene fermato da Milan in aria. Anaclerio infine svirgola la conclusione. Al quinto risponde la Gelbison. Botta da lontano di De Pasquale e Di Ameri spinge. Sul proseguo dell'azione c'è fuorigioco. La Gelbison cresce e al decimo mette la freccia. Schiava da corner e Croce con il mancino trova la rete. Difesa bitontina non esente da responsabilità e 1-0 sul campo di Agropoli per Croce e il settimo centro in campionato capocannoniere del Gironiacca. Il Bitonto non ci sta. Al ventitresimo succede di tutto. In aria campana Tedesco viene murato. Muscatielo da due passi si fa ipnotizzare da Milan. Poi Fioretti si vede negare la gioia del gol sulla linea da un difensore. Passano pochi minuti e il Bitonto chiede un calcio di rigore su un presunto tocco col braccio di Tazza. In aria dopo la conclusione di Tedesco l'arbitro lascia proseguire. Sull'angolo successivo Tangorre spreca di testa al 35esimo. Occasione neroverde con Alba che può pareggiarla. Milan risponde così e salva il punteggio dal corner che segue. Il colpo di testa di Gomez arriva ad un passo da 1-1. Nel finale Tedesco ci riprova ma la mira è da rivedere e la Gelbison a portare a casa i tre punti. Per la Gelbison in programma domenica prossima c'è ancora un match casalingo contro Rotonda. Terza sconfitta consecutiva per il Bitonto che avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più ma l'attacco continua a non pungere anche dopo il cambio in panchina. Nel prossimo turno a bitetto arriva la Fidelisandria, match che sarà trasmesso in diretta su Telesveva.